con le spettacole al Domenico Iolo di Casalnuovo dove i padroni di casa firmano la capolista Nero Stellati Frattese sul punteggio di 2 a 2. Nel primo tempo dopo un buon avvio per gli uomini di Sorianiello è la Frattese a trovare il vantaggio su una splendida punizione calciato da Grieco che si infila alle spalle del portiere. Nella ripresa la partita cambia e dopo pochi minuti è Capitano Cerbone a ristabilire la parità con un tocco sotto misura che non lascia scampo al portiere e ospite Poco dopo è Insigne con un'azione magistrale a infilare il portiere con un gran destro che si infila nel 7 Grande esultanza per il ragazzo di Fratta Maggiore in gol contro la squadra del proprio paese Passano pochi minuti e Costanza a firmare il gol del paleggio per la capolista con un gran tiro da fuori aria che si infila nell'angolo basso Nel finale è un assalto per i Nero Stellati ma il risultato non cambia più A fine gara ecco le parole dei protagonisti ai microfoni del mediano sport Siamo allo Stato Comunale Domenico Ioro di Casalnuovo dopo un grande pareggio tra l'Atletico Casalnuovo e il Nero Stellati Frattese Siamo con mister Sorianiello Mister un punto importante dopo la sconfitta di domenica scorsa Certamente, volevamo riscattare l'opaca prova di domenica scorsa e devo dire che l'opaca è stata l'unica di tutto il campionato altre volte abbiamo perso ma con maggiore e maggiore vemenza con più presenza ma nel corso di un campionato di queste gare ne capitano ce ne è capitato una sola volta e io mi auguro che sia anche l'ultima perché non si può mai sapere Complimenti alla squadra, tutti quanti, al pubblico di Casalnuovo Anche perché l'Atletico ha saputo tenere testa alla capolista Ma credo che noi abbiamo giocato alla pari contro una grossa squadra che credo che alla fine non me ne voglia di altro vincere il campionato anche con merito Giocatori me di Grieco, mezza capo, risi Una squadra importante Sono stati bravi a reagire subito dopo il 2-1 nostro Siamo stati bravi noi a passare in svantaggio e a ribaltare la gara Una bella partita, ha vinto lo sport e spero che sui campi direttanti, specialmente nelle ultime gare siano sempre belle partite come quella di oggi Le ultime gare Casalnuo le affronta con umiltà per onorare il campionato Ma per onorare la società, che ci fa stare bene, che merita e per rispettare noi stessi Noi siamo qui a fare il nostro dovere e lo dobbiamo fare fino alla fine se vogliamo far sì che il calcio e lo sport in genere cresca e migliori sempre e mantenga sempre i veri valori Siamo con mister Grimaldi di Danilo Frattese Mister, come lo definisci questo punto qui a Casalnuovo? È un punto, sai, che brucia perché onestamente come occasioni da rete Potevamo sfruttare meglio quello che ci è capitato però siamo stati un po' per bravura del portiere avversario un po' per imprecisione nostra non abbiamo portato a casa i tre punti però rimane il rammarico, resta il rammarico però comunque siamo fiduciosi per la prestazione fornita onestamente abbiamo fatto una buonissima gara Quanto sono decisive le prossime sfide per la promozione in Serie D? A questo punto sono tutte decisive perché si possono definire quattro spareggi quattro finali però guardiamo con ottimismo vista la prestazione di oggi Quindi anche questo punto qui è importante soprattutto come si è messa la partita dopo il vantaggio del Casalnuovo? Sì, per nostra disattenzione, i nostri errori abbiamo permesso al Casalnuovo prima di pervenire al pareggio e poi di passare in vantaggio però c'è stata da parte dei miei la grande forza di spirito, di squadra che si vince per tutto l'arco della stagione in questi ragazzi che hanno subito ristabilito la parità e potevamo anche onestamente vincere la partita Siamo con Antonio Insigne, autore del gol del vantaggio momentaneo del Casalnuovo Antonio, è stata una sfida speciale per te? Sì, essendo frattese è stata una sfida molto speciale anche perché credo che sia la prima o la seconda volta a giocare contro i miei paesani quindi è stata una sfida molto speciale credo che alla fine poi il pareggio sia stato il risultato più giusto perché abbiamo fatto una gran bella partita in entrambi le squadre quindi il pareggio è il risultato giusto Un punto importante dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa? Sì, noi ci dovevamo riscattare dalla pessima prestazione di domenica purtroppo abbiamo sbagliato praticamente la partita però capita nel calcio e credo che oggi abbiamo ribaltato di nuovo tutto abbiamo fatto veramente una bella partita quindi faccio i complimenti a tutti i miei compagni Anche perché avete lottato la pari contro la capolista del campionato? Sì, loro indubbiamente sono la squadra più forte adesso mancano poche partite quindi più o meno si è giocato contro tutti e lo possiamo dire loro sono i più forti e meritano la posizione in classifica in Guistan Siamo con Diego Di Palma dopo una grande prestazione di atletico a Casalnuovo contro la capolista frattese Diego, un pareggio importante contro la capolista? Un pareggio importante contro una squadra importante sapevamo che venivano qui per fare la partita anche perché le squadre che sono dietro di loro non il Sant'Anastasia ma il quarto aveva vinto e quindi sapevamo che venivano qui a fare la partita forse si aspettavano che noi non eravamo proprio in palla invece noi anche perché abbiamo una società importante cercheremo di onorare il campionato fino alla fine abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra che sicuramente a mio avviso vincerà il campionato perché è la squadra più forte Anche perché domenica scorso c'è stata una brutta prestazione del atletico a Casalnuovo? Sì, abbiamo fatto una brutta partita a Miano contro una squadra che sicuramente era la nostra portata che però veniva da una vittoria a quarto su un campo dove loro sono più diciamo pronti a fare la partita perché è un campo in terreno noi ci alleniamo su un campo in terza sintetica però hanno giocato meglio di noi e hanno sicuramente meritato la vittoria Questo finale di campionato a Teco Casalnuo doveva onorare le quattro partite che mancano Sì, infatti come dicevo prima abbiamo una società che non ci fa mancare nulla e quindi fino alla fine cercheremo di onorare questo campionato cercando di proseguire su quella strada che comunque ci ha contraddistinto nel giorno di ritorno dove abbiamo fatto penso meglio del giorno di andata Ringraziamo Teco Di Palma e un saluto dai amici del Mediano Sport